Buongiorno amiglia! Allora, lo sentite questo tremore alle gambe? La sentite questa sensazione di incombente di arrella? Lo sentite questo senso di smarrimento esistenziale, di stress, di ansia e di mancanza di sicurezza? State sereni perché tra poco giocherà la Fiorentina. E allora io vi invito ad iscrivervi, vi invito a condividere il video, vi invito ad attivare il campanaccio perché subito dopo la partita uscirà il mio video di commento sperando di non bestemmiare e vi invito anche a scaricare OneFootball, l'app che vi lascio in descrizione e che vi dà notizie, pronosti, analisi, anche statistiche durante la gara e quindi ve la lascio in descrizione e vi invito a scaricarla assieme all'immancabile televideo. Allora, spero vi piaccia la copertina di questo video, l'ho creata io, l'ho creata io e vi vado a dire perché nei pronosti di prima ho messo due a Fiorentina Lecce. Beh, innanzitutto per una questione di gufata, per una questione di inerzie, di gufaggine insomma e poi anche un po' una provocazione perché è una gara aperta, purtroppo è una gara aperta e non so voi ma se c'è una cosa che più di tutte mi fa arrabbiare per usare un eufemismo degli ultimi anni della Fiorentina è che con qualsiasi avversario tu giochi non hai la sicurezza di poter dire questa la vinciamo. È da un po' di anni che giochi in casa con Lecce, col Brescia, con qualsiasi, con l'Udinese, con qualsiasi squadra e non puoi dire beh questa sono sicuro che la Fiorentina vince, capito? E sei sempre sul chi va là e lo siamo anche oggi perché può essere una partita in cui vinciamo però può essere anche una partita in cui perdi perché Lecce è una squadra che gioca, il pareggio è una via di mezzo e quindi ha maggior ragione. Allora prima di parlare della formazione voglio dirvi una cosa, io ho come la sensazione che diverse altre squadre, non tutte tipo Milan, Napoli, non ancora soprattutto il Milan o il Torino ma molte altre compreso Lecce, sono squadre che sono più avanti di noi nel processo di comprensione di quello che è il campionato e di quello che è il loro campionato, di quello che devono fare, di quello che possono fare, di quella che è la loro consapevolezza anche a livello di gioco, di come affrontare gli avversari, anche una spal banalmente vedo più in condizioni di noi, noi viviamo in un mare di nebbia, capito? Viviamo in un mare di nebbia, non abbiamo ancora un'identità tattica e tecnica, non sappiamo quale sarà il nostro campionato, è stato detto, per me sbagliando, che sarà un campionato di transizione e paghiamo questo anche dal punto di vista dell'elemento più importante oggi, cioè quello della grinta e del carattere. Oggi ci aspettiamo una squadra che svolti soprattutto da quel punto di vista, cioè una squadra che abbia carattere, che sia cattiva, che sia arrabbiata per le ultime partite, che voglia rimediare alle figuracce delle ultime due partite e che scenda in campo con gli occhi iniettati di feci, cioè che voglia vincere, che voglia convincere, che voglia fare punti, che voglia rimediare a questi ultimi mesi. Questa è la prima cosa, perché poi si può parlare di tattica, si può parlare di giocatori, si può parlare di su, si può parlare di giù, ma se non c'è voglia di vincere, se non c'è impegno, se non c'è grinta, non si va da nessuna parte. E nella carenza di questo, secondo me è sicuramente responsabile in parte l'allenatore, perché è anche l'allenatore che deve dare grinta, che deve motivare, che deve tenere sulla squadra e l'ambiente, ma se dietro le spalle hai una dirigenza che dice sarà un anno di transizione, ecco perché mi ha fatto girare un po' le scatole quella dichiarazione. Perché con che grinta, con che voglia e con che spirito vuoi che affronti la gente, le partite, se hai dei dirigenti che dicono sarà un anno di transizione. No, è proprio questo che io rimproveravo, rimprovero. Deve esserci un piano, deve esserci una serie di obiettivi, di step che pretendi, che devi raggiungere, se no perdi, se perdi di vista l'obiettivo sei in un mare di nebbia. E infatti il nostro problema maggiore è questo, che da anni anche, va detto, non c'è un piano, non c'è una volontà di creare questo ciclo, di avere una serie di step da raggiungere. E questo lo paghi. E questo lo paghi. Quindi oggi, in questa difficoltà, che purtroppo ti sei creato da solo, con certe dichiarazioni e certi passaggi, bisogna aspettarsi questo, io voglio questo e mi aspetto questo. È la partita giusta, perché giochiamo in casa comunque con un avversario da rispettare, un avversario che lotta, un avversario che si conosce, un avversario ben oliato, in tutti i sensi, l'olio di O'Liverani, che sarà anche un piacere rivedere a Firenze. È un avversario che paradossalmente, vi ripeto, secondo me è più avanti di noi nel capire la sua identità e l'identità del campionato che andrà a fare. Non sarà una partita per niente facile, io non ho sicurezza, spero che la Fiorentina possa vincere, ma è tutto un chi va là, è tutto un non sapere, no? Barzelletta-Venet. Sabe come si fa i bovi al saver? Va a saverti, come chi si fa, no? E va a saverti cosa che fa a Fiorentina stasera. Non è facile. Certo è che bisogna vincere, quello è poco ma sicuro. Però, se vedi il Lecce che ha giocato a Milano contro il Milan, noi non è che siamo in una posizione tanto diversa dal Milan. Anzi, paradossalmente il Milan nei primi 50-60 minuti ha avuto una cattiveria che onestamente pagherei io finché l'avessero i nostri giocatori, ma vediamo. Vediamo come andrà. E per quel che riguarda la formazione c'è questo Chiesa che non è stato convocato, probabilmente per sta cosa che ha fisica, livello fisico che deve sistemare. Speriamo e crediamo che sia così e quindi la formazione è abbastanza obbligata. Io giocherei col 3-5-2 con Ribery e Vlaovic davanti, centrocampo i soliti, difesa non c'è Pezzella, puoi far giocare uno tra Ceccherini e Ranieri, magari meglio Ranieri visto che se il campionato è di transizione almeno vediamo i nostri giovani. E per quel che riguarda la fascia sinistra, a destra farei giocare Lirola, che anche là adesso Lirola è diventato un po' un bersaglio, no? Cioè anche questa cosa mi fa ridere. Si sono esaltati o si esaltano giocatori che già a giugno-luglio si poteva capire che tipo di contributo potessero dare. Parlavi di Badel, un buon ritorno, un ottimo regista, un grande regista. Parlavi di Boateng è arrivato Leo Messi, è arrivato Leo Messi, campione, il nostro 10. Pulgar due maroni così con Pulgar. Quest'estate ho osato dire, guardate che secondo me è un calciatore normale, cioè non è che abbiamo preso Buscaini, Estano, fosse mai, no? È una colonna del Cile, di qua e di là. Ragazzi, siamo onesti, sta facendo delle prestazioni normalissime, da giocatore normale, no? E invece Lirola, che è uno dei pochi di quelli che hai preso, per me, che ha delle potenzialità aspettabili nel medio-lungo periodo, perché per me è un giocatore che le qualità le ha, e sembra che abbiamo preso il peggior pacco. Cioè Lirola è il peggior pacco della società. Io ci andrei cauto, perché ricordo anche certi scetticismi con Marco Salonso, che poi è diventato Marco Salonso, quindi io Lirola a certe qualità ce le vedo. Mi chiedo perché al posto di Dalbert, sulla fascia sinistra, non posso giocare Terzic, che è nostro, che è stato pagato, che è un nostro giovane. Mi è così imprescindibile Dalbert, viste certe partite, tipo l'ultima di Verona, non penso, non credo che sia così imprescindibile, no? Oltretutto non è neanche nostro, ripeto, non so perché Terzic non possa giocare. Capisco Ranieri che non è un esterno a tutta fascia, ma Terzic si poteva e può giocare, no? E quindi la formazione, io farei 3-5-2, Vlaovic, Ceriberi, centrocampo solito, difesa, quella che puoi, quella che vuoi, quella che hai, esterno a sinistro, provarei sto Terzic al posto di Dalbert, no? Anche, ma anche, non chiedo di prendere Dalbert e eliminarlo, non farlo più giocare, eliminarlo ovviamente calcisticamente, non farlo più giocare, no? Fai una staffetta anche per far capire che Dalbert dietro a qualcuno, se fa delle prestazioni che non soddisfano, che non sono buone, no? Eh, è gente tua, non è che la vai a, cioè non è che vai al marciapiede a chiedere a uno, vieni a giocare al posto di Dalbert, Terzic ce l'hai comprato, proviamole, proviamole, no? E detto questo, insomma, è una partita da vincere, oggi, cioè, su carta è una partita che devi vincere. E vediamo, però, è da tripla, è da tripla. Io non ho grandi presagi, spero che la squadra mi smentisca, spero che venga messa in campo della cattiveria, e a mio avviso affrontiamo un avversario che a livello di preparazione rispetto alla stagione che deve fare, ha le idee molto più chiare di noi. E non è un vantaggio da poco, e non è un vantaggio da poco. Ok? Ditemi cosa ne pensate, attivate il campanaccio, e a dopo.